Il sindaco di Riace Nel dovuto rispetto ovviamente dell'azione della magistratura ma l'arresto lo riteniamo sproporzionato. Il modello Riace è un modello di umanità in un territorio attraversato dalle più gravi potenti e inquinanti collusioni tra massoneria deveata, andrangheta, pezzi di politica e di istituzione. Se il socialmente pericoloso è Mimmo Lucano vuol dire che non si è veramente compreso di qual è la situazione malata di quel territorio. Mimmo è l'antitesi della regola amministrativa, lo dice lui stesso, ma è anche un reato impossibile. Arrestare Mimmo Lucano è come arrestare l'umanità e quindi è per questo che siamo schierati con Mimmo Lucano e ci auguriamo che quanto prima possa tornare libero e a chi non ha capito che cos'è Riace deve andare a Riace. Perché a Riace il problema non è l'immigrazione ma è l'emigrazione che una classe dirigente incapace, certe volte collusa e certe volte mafiosa ha costretto migliaia e migliaia, decine e decine di migliaia di calabresi e molte volte di giovani di abbandonare quelle terre. Mimmo e non solo Mimmo, ma Mimmo è stato uno di questi come Badolato e altri comuni hanno creato dei borghi vivi pieni di gioia in cui i bambini calabresi giocano con i bambini africani, in cui si fa economia, in cui si caccia l'andrangheta e in cui dai simboli dell'abbandono e della morte si è tornata alla vita. Quindi in questo caso, almeno in quei luoghi, l'immigrazione non è un problema, è una risorsa e non è forse un caso che la politica, non la magistratura, chiaramente mi riferisco alla politica, in questo caso voglia colpire con così tanta violenza modelli come questi. Perché sono l'esempio che dove maggiormente si soffre, cioè al sud, si ha la capacità di guardare un'emergenza mondiale non solo come un grave problema dell'umanità ma anche come una potenziale opportunità.